Bentornati a Pilo alle dipercussioni. Sin dalla nascita il primo strumento che abbiamo a disposizione è la voce. Ma è possibile utilizzarla come strumento ritmico? Il Connacol è un antichissimo linguaggio ritmico dell'India del Sud che consiste nella recitazione di sillabe percussive della musica classica carnatica all'interno di uno spazio ritmico chiamato Tala. Il Connacol è un'arte millenaria ed è stato ritenuto da alcuni studiosi come il linguaggio ritmico più complesso ed articolato al mondo. Attualmente il Connacol è tra le forme artistiche più popolari tra musicisti, ballerini, batteristi, compositori. Si pensa che abbia anche effetti benefici sul piano fisico, psicologico e spirituale. Per questo Inidia è impiegato anche per finalità meditative e terapeutiche. Ogni frase ha una struttura ben definita e al suo interno sono inserite informazioni di carattere sia melodico che ritmico. Le sillabe sono articolate in parole, solcatto, e frasi organizzate in strutture più ampie. Ma ce ne parlerà meglio il maestro Paolo Cimmino. Ciao Francesco, ciao a tutti. Ebbene sì, parliamo di solcatto. Solcatto è una parola tamil dell'India del Sud che significa gruppo di sillabe che riproducono onomatopeicamente il suono del tamburo, strumento principe nell'India del Sud e nel drangam e le tabla per quanto riguarda l'India del Nord. Ovviamente questa disciplina è estesa a tutti gli strumenti a percussione, agli strumenti melodici, al canto anche, e alla danza. E il nostro solfeggio ritmico, il nostro solfeggio cantato, leggermente più complesso. Voi immaginate una piccola pianta che man mano cresce e diventa una pianta di infinita bellezza. Ora avete visto che il solcatto è associato al movimento delle mani. Le mani indicano in che tempo eseguiremo la composizione. La composizione, la pillola che vi vorrei dare e che vorrei condividere con voi è una pillola molto semplice. Siamo in un quattro quarti. Quindi abbiamo e poi abbiamo un gruppo di quattro 3, 2, 1 e funziona anche al contrario. Io continuo e ci vediamo presto. Ancora grazie infinite al maestro Paolo Cimmino per il suo contributo a Pillole di Percussioni e noi ci vediamo alla prossima pillola.